Quest'estate procede serrata l'attività delle forze dell'ordine per combattere la piaga della prostituzione sulle principali vie di collegamento del Ravennate. Giovani e giovanissimi le ragazze che, provenienti dall'est europeo e dal sud America, finiscono nella rete di sfruttatori e malviventi che gonfiano le proprie tasche e le proprie economie tramite questa moderna schiavitù. Le immagini che state osservando si riferiscono al notevole flusso di prostituzione che da giorni ha come sfondo la Romea direzione nord. Strada oltre modo pericolosa, molto più della statale adriatica per certi versi, su cui tir e automobili sfrecciano ad altissima velocità mettendo a repentaglio in pericolo la vita di queste sfortunate ragazze e anche di chi, in maniera davvero incosciente, continua ad alimentare questo triste mercato. Le sequenze che ritraggono giovanissime ragazze sono state girate l'11 luglio alle ore 16. Ecco cosa accade su una delle vie principali che da nord conduce a Ravenna. Per Ravenna Web TV, Joseph François. Grazie. 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 Grazie.